Le polpette di mia nonna, le ragazze, la mia ragazza, il calcetto con gli amici, la pizza, la pizza con gli amici, Kira, che è mezzo bulldog e mezzo mostro, la cosa più bella della mia vita è viaggiare, Sassu San Giovanni, il posto dove sono cresciuto, mio figlio Pietro, il pranzo della domenica in giardino, e la domenica, la nipotina, e ballare, e ballare, Casa mia, che adesso è casa mia davvero, Quel gran casino della mia famiglia,